Sono iniziate le vacanze e ancora molte persone devono prenotare appunto il soggiorno nelle varie località di montagna ma soprattutto di mare. Tra le località più gettonate, soprattutto per la Toscana, è appunto la Rivera Romagnola. Siamo proprio a Rimini con due esponenti dell'Associazione Italiana Albergatori di Rimini, Chiara Bellettini e Marilena Mari, per capire meglio come fare a riconoscere la qualità di un hotel rispetto a un hotel più scadente. Allora sicuramente bisogna stare molto attenti alle offerte che risultano molto allettanti ma in realtà non hanno sostanza. Fondamentalmente il prezzo troppo basso è già un sintomo di qualcosa che non va sicuramente. Questo innanzitutto è il primo allarme. Si possono fare poi molti esempi per verificare la qualità di una struttura che magari anche sul sito internet si vende come una struttura di altissima qualità eccetera, ma in realtà se stiamo attenti lo vediamo facilmente che poi non è così. Ma entriamo più nello specifico e facciamo qualche esempio. Allora la cucina, ad esempio tutti dicono che la cucina è romagnola e buona. Non è vero perché molti usano prodotti di scarsa qualità non poi mantenendo le tradizioni. Noi e tanti altri alberghi come noi mantengono la tradizione facendo ancora pasta fatta in casa, con un'ottima pulizia nella cucina, negli ambienti in comune, esterni, cose che in molti alberghi questo proprio si vede benissimo. Ma all'arrivo del cliente, non sul sito. Poi camere vendute con letti a castello fronte a una finestra per andare in terrazzo oppure fronte a una porta di un bagno che è difficilissimo passare. E poi questi letti a castello non si potrebbero più utilizzare oppure devono essere proprio a norma. Ma questo non avviene con sponde grandi in maniera che i bimbi non cadano dal letto. Cioè bisogna stare molto attenti a questi particolari. Ma basta guardare bene le foto sui siti e vi accorgerete di queste camere che hanno delle grosse mancanze. Per una buona vacanza quindi attenti alla qualità dell'hotel, soprattutto guardando il prezzo, le foto che sono messe nei siti internet e l'ospitalità. Ma in Romagna sicuramente la troverete. Buona vacanza a tutti. Grazie. Grazie.